Grazie, senatrice Ternullo. Do la parola al senatore Cataldi. Grazie, presidente. Presidente, siamo tutti d'accordo sul fatto che si debba lavorare nella promozione delle zone montane. E questo provvedimento, almeno dal titolo, sembra andare in questa direzione. È pieno questo provvedimento di buone intenzioni, di buoni propositi. Peccato però che a remare contro sia proprio il governo quando si tratta di definire le risorse economiche da mettere in campo. Colleghi, ma io non so se voi ve ne rendete conto, ma con 200 milioni di euro voi pensate di sistemare problemi relativi alla sanità, all'istruzione, alle infrastrutture tecnologiche, ai sistemi di trasporto, creare opportunità di lavoro su una platea di 4.000 comuni che sono più o meno mezza Italia, come ci diceva prima la collega Ternullo. Ternullo, scusate. C'è una somiglianza. Allora, colleghi, gli obiettivi sono ambiziosi e noi li condividiamo. Ma questo governo sta limitando fortemente le risorse da destinare a questo provvedimento e allo stesso tempo non si fa scrupoli a spendere 680 milioni di euro per un terreno in Albania e fare finta di aver risolto il problema dell'immigrazione? Colleghi, voi state spendendo i soldi degli italiani per fare propaganda elettorale e poi ci venite a dire che non avete i soldi e la cosa più grave è che voi adesso state continuando a dire che la colpa è dei governi che vi hanno preceduto. Non vi rendete ridicoli, siete già arrivati alla terza legge di bilancio e ancora è colpa dei governi che vi hanno preceduto. Però, Presidente, una colpa a noi dei Cinque Stelle ce la prendiamo. Ci prendiamo la colpa di aver lasciato nelle vostre mani più di 200 miliardi del PNRR con i quali non riuscite ancora a far ripartire l'Italia. Quella sì che è la nostra colpa. E state dimostrando di non capire neppure la differenza che c'è tra gli sprechi che fate voi e le misure di rilancio dell'economia che abbiamo fatto noi quando eravamo al governo. Ci fate capire che non vi interessa nulla dello spreco di denaro pubblico perché non volete neppure combattere con quell'enorme spreco di denaro pubblico che si chiama corruzione e che costa 237 miliardi l'anno all'Italia. E non lo fate perché anziché combattere la corruzione voi state combattendo contro le procure e contro la magistratura. Ma il problema, Presidente, non è soltanto il fatto che non mettete risorse economiche. Quello che manca in questo provvedimento è la visione sul futuro economico da dare alle aree montane. Qual è il vostro progetto per il futuro di queste aree? Al di là delle parole che state inserendo in questo provvedimento qual è quello che manca, la grande assente di questo provvedimento? È una strategia credibile per il futuro di queste aree? Volete valorizzare, che ne so, la vocazione turistica? Allora pensate di fare magari dei comprensori, magari di sport di montagna ma servono investimenti massicci. Come pensate con questa elemosina di rilanciare l'economia delle zone montane? E perché dovremmo fidarci di questo governo quando già state dimostrando nella ricostruzione del centro Italia che non siete in grado di capire che non basta ricostruire le case se non si investe nel futuro economico, nello sviluppo economico di questi paesi? Ma c'è un'altra preoccupazione che non posso tacere perché questo governo adesso si riserverà di definire i criteri per stabilire non tanto quelli che saranno i comuni montani ma quelli che non lo saranno più e siccome avete deciso di puntare sul criterio altimetrico noi abbiamo cercato di convincervi in Commissione di dare un po' più speso magari al criterio socio-economico è inutile che mi parlate di aree interne stiamo parlando di zone montane e questo criterio altimetrico io vorrei chiederlo al Ministro Calderoli ma questo provvedimento una volta che avrete definito questo criterio si chiamerà ancora zone montane o si chiamerà zone alpine? Perché questo ancora non c'è chiaro perché a quanto pare saranno operanizzate proprio le regioni del centro-sud e adesso vorrei fare però un appello alla maggioranza perché vedete quando noi parliamo di zone montane di sviluppo delle zone montane non stiamo parlando per noi stiamo parlando alle nuove generazioni e guardate quando si parla alle nuove generazioni dobbiamo prestare molta attenzione a non vendere illusioni e io mi preoccupo perché questo governo purtroppo è abituato a vendere illusioni avete venduto illusioni ai vostri elettori quando avete parlato di flat tax quando avete parlato di pensioni minime quando avete creato le illusioni in campagna elettorale parlando delle accise sulla benzina avete fatto una campagna elettorale e governate grazie a una strategia di manipolazione che presto gli italiani scopriranno Presidente, i giovani hanno bisogno di certezze perché credo che una delle più grandi frustrazioni delle nuove generazioni sia proprio nel vivere in questo senso di precarietà e allora non creiamo delle aspettative che poi saranno disattese i giovani hanno bisogno di avere la possibilità di costruire un futuro di vita e se non pensate di fare investimenti significativi per la montagna non create ulteriori illusioni ora però il Movimento 5 Stelle ripeto, condivide gli obiettivi non condivide il modo in cui voi vi state muovendo quindi non voteremo contro questo provvedimento perché siamo vicini alla popolazione che vivono nei territori montani che stiamo parlando della metà più della metà del territorio italiano il nostro voto sarà un voto di astensione con l'augurio però che questo governo abbia almeno un ravvedimento peroso grazie grazie senatore Cataldi prima del prossimo intervento salutiamo in tribuna gli studenti